Il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la morte, in genere, di una persona cara. Il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di notevole rilevanza sia in ambito psicologico sia antropologico. Nelle culture occidentali viene solitamente associato al colore nero. Heidi Ferrer classe 1970 si è tolta la via, lasciando un marito e un figlio. Era un anno e un mese che Heidi Ferrer cercava di riprendersi dal coronavirus. Una terribile forma aggressiva definita Covid lungo. Heidi Ferrer, morta suicida la mente di Dazons Creek, vi devo dare la tragica notizia della sua scomparsa a causa del Covid lungo. Aveva 49 anni. Grave lutto per Costantino Vitaliano? Grande dolore per l'ex tronista di Uomini e Donne.